Siamo a Drone Italy 2018 e siamo con Davide Savastano, segretario di FIAPR, a cui chiediamo cosa è venuto fuori da questo evento e quali sono state le richieste che sono state fatte a ENAC. Le richieste fatte a ENAC puntano tutto verso BVLOS, noi abbiamo richiesto nuovamente ad ENAC di farci vedere prima possibile una bozza e confrontarci su di essa in maniera tale da arrivare quanto prima possibile a una procedura e una regolamentazione BVLOS che sia applicabile a tutti e in maniera standardizzata. Cerchiamo quindi di portare avanti questa attività con ENAC di confronto e di collaborazione sperando che non ci venga data la regolamentazione a fine procedura ma che ci sia data in corso di procedura in maniera tale da intervenire su quelle che sono le eventuali criticità che ci verranno poste. Quest'anno è stato importante per noi venire qui perché abbiamo dato la possibilità ai nostri soci di incontrarci nuovamente e soprattutto di avere dei confronti con loro, ci sono nuovi associati che grazie a questo evento ci hanno conosciuto che sono venuti dentro la nostra associazione, da questi sono venuti fuori degli importanti spunti che porteremo avanti sicuramente sicuramente lo faremo ai tavoli di regolamentazione e spero che sempre di più ci siano persone che abbiano voglia di essere rappresentate da FIAPR e soprattutto noi crediamo tantissimo nelle PMI, tanto è vero che io stesso sono aderente a PMI Italia e rappresento il comparto Doroni. Grazie mille allora a Davide Salastano. Grazie a tutti e al prossimo anno.